buongiorno a tutti ecco la composizione parete attrezzata plan 38 come anticipato in altri video di pareti attrezzate questo è diciamo una recensione di questa specifica composizione e non delle infinite possibilità progettuali che ci sono nella collezione plan questa composizione misura 336 centimetri in larghezza ha una profondità massima di 52 centimetri e un'altezza di 194 centimetri e mezzo vediamo come composta abbiamo qui dei pensili un pensile di 128 di larghezza e 64 d'altezza un pensile con due ante e sotto diciamo il corrispettivo inferiore è questa panca a c di 128 centimetri anch'essa questa panca c si raccorda alla base tv è come se avessimo la base tv che vedete qui con questo colore nude rosa e questa panca c che vi si inserisce andando al di sotto della stessa e al di sopra questa panca poi caratterizzata da questa libreria in lamiera che va a raccordare i due top i due pannelli quello superiore e quello inferiore in color fango abbiamo la base tv una base tv da 192 centimetri in questo caso attrezzata con i cestoni è una base h32 fate conto che le basi di basi di questo tipo possono essere realizzate ovviamente in varie altezze diciamo a partire dal 16 che contiene veramente poco anche in termini estetici è fin troppo minimale il 24 che è un bel formato il 32 che probabilmente il più venduto è anche quello che io gradisco particolarmente è interessante notare che se un cestone di questo tipo di questo tipo è largo 96 centimetri l'altezza di 32 è esattamente un terzo della sua larghezza complessiva e questo che secondo me crea una proporzione estetica gradevole ok il parlando della profondità ecco che 52 centimetri è la profondità massima di queste basi tanti anni fa quando c'erano solo i televisori col tubo catodico le basi televisione erano profonde 60 centimetri o la misura minima era appunto di circa 50 centimetri adesso ci si è spostati ovviamente con le tv piatte o in appoggio o addirittura appesa al muro ci si è spostati su profondità minori ed ecco che il 45 è un pochino lo standard di come si progetta e il 52 è una profondità ulteriore in questo caso nel creare questa composizione si è scelto il 52 centimetri abbiamo poi questo elemento pensile con una boiserie posteriore laccata che volendo può essere arricchita da led inferiore e superiore con una mensola spessore un centimetro che sporge rispetto a questo pannello decorativo e vedete questo pannello ha giustamente l'altezza di questa fila di pensili quindi va a creare un ponte tra questo volume poi parleremo delle anti in noce e questa colonna che riprende le stesse anti in noce quindi questo pezzo centrale crea un po il ponte fra questi due punti focali perché la questa finitura di anta dogata è in effetti un punto focale arriviamo così all'ultima colonna che è una colonna di 192 d'altezza con piedini poi da due mezzo arriviamo al 194 e mezzo totale con tre ante dogate ecco qua parliamo quindi di finiture la collezione plan offre veramente tanta scelta e laccati opachi laccati lucidi laccati metallizzati rovere laccato per aperto rovere tinto veramente un sacco di nobilitati molto belli qui vediamo una finitura particolare che è questa finitura noce o meglio scusate legno di noce con una lavorazione dogata racconto un pochino come viene prodotta questa come viene realizzata questa lavorazione perché viene realizzata un'antina con in nobilitato nero sostanzialmente che viene poi impiallacciata perimetralmente posteriormente frontalmente in legno di noce quindi un'antina in noce questa e viene poi incisa quindi una volta che creo questo sandwich scusate l'espressione con il pannello nero poi lo rivesto in noce una volta che l'ho rivestito lo incido verticalmente ecco che all'interno del noce esce questa stricciolina questa piccola striscia nera e crea questo effetto molto gradevole appunto di noce dogato io lo sapete che amo in particolare il noce quindi mi entusiasmo questi particolari bellissima la lavorazione la lavorazione dogata ma faccio notare anche la bellezza la bellezza dell'interno e uno dice vabbè ma a me interessa l'esterno giustamente però il fatto di vedere come è realizzata la lavorazione interna cioè in questo caso è semplicemente una bella essenza in termini di lavorazione è molto semplice è un bel pannello però diciamo è quella il bello del legno è che ogni antina ha una storia a sé e se confrontiamo per esempio i vari legni la collezione plan da questa possibilità sul noce ma poi si lavora molto sul rovere tinto ecco che il noce ha una inagabilmente rispetto al rovere una venatura interessante poi rovere dall'altra parte da delle persone offre delle personalizzazioni cromatiche che il noce non può offrire parliamo un attimo qui dei laccati diceva allora questa composizione qui è stato scelto laccato per questi altri elementi abbiamo laccato color fango magari l'ufficio marketing poteva sforzarsi di più di scegliere un nome per questo colore ma inagabilmente è un bel colore perché è un torto rascuro torto rascuro che si abbina bene al noce e vediamo poi qui il laccato nude che come suggerisce la parola è come se fosse un rosa color carne per capirci da qui il nome nude cogliamo l'occasione intanto che stiamo vedendo le finiture vediamo qui il cestone è stato scelto con l'applicazione della maniglia questa è una maniglia che a me piace molto perché è una maniglia diciamo non intrusiva discreta nel senso buono del termine perché non solo per la forma diciamo applicato superiormente al pannello applicata superiormente al pannello viene realizzata in tutti i colori della gamma è in metallo verniciato ed è secondo me è una valida alternativa rispetto a una gola che è pratica bella ma innegabilmente altera la forma dell'anta ok e rispetto al push pull che tipicamente è un filo meno pratico un ulteriore approfondimento sul il rapporto che c'è tra i singoli oggetti della composizione e il fissaggio a parete o l'appoggio a terra allora questa è una colonna che appoggia a terra appoggia a terra e ha i piedi cosiddetti a scomparsa da due e mezzo in realtà non è che sono a scomparsa semplicemente sono piedi alti due e mezzo lievemente rientranti rispetto al perimetro della struttura e questo fa in modo che salvo che io abbia tanti metri di distanza salvo che io abbassi di molto il mio punto di vista il piede non lo vedo e da qui si chiama piede a scomparsa un sistema di appoggio che ha lo stesso ingombro in altezza è lo zoccolo quindi io in alternativa posso avere al posto del piede uno zoccolo che ha la stessa dimensione della struttura dell'elemento in oggetto e in questo caso però lo zoccolo lo vedo e per esempio se mi si infila sotto qualcosa ovviamente è più difficile che si infili sotto qualcosa ma mettiamo che sia un foglio o una banconota una banconota di una certa di un certo importo poi posso far più fatica a recuperarlo qui col piede da due e mezzo tutto sommato uno swiffer un qualcosa lo posso infilare se passiamo invece a queste basi queste basi sono molto vicine a terra ok in realtà sono sospese in altri video ho fatto questo ragionamento dicendo quando una base è sospesa a me personalmente piace sospenderla magari di un 15 20 25 cm per dare senso al fatto che sia sospesa qui non è così perché non è così perché questa base in realtà visivamente va in appoggio su questa panca e quindi è sospesa solo di pochi centi pochi centimetri che servono anche questa panca a sua volta ai piedi nascosti da due e mezzo che ci troviamo prima e quindi sostanzialmente abbiamo se non ricordo male sette e mezzo in totale ed è per questo che queste basi sono appese al muro ma sospese di pochi centimetri per perché visivamente sono in appoggio su questa panca speriamo vi sia piaciuta questa composizione ecco la parete attrezzata plan 38